benvenuti sul mio canale tutto dal web finalmente una bella notizia stefano tacconi al ristorante con la sua famiglia la prima uscita pubblica per l'ex portiere ricordiamolo che quasi un anno e mezzo fa l'ex portiere della juventus era finito in rianimazione a causa di un'emorragia celebrale accompagnato dalla famiglia si è recato in un ristorante pugliese lo chalet del gourmet di san giovanni rotondo è stato lo stesso locale poi sui suoi canali social a diffondere questa bellissima notizia e pubblicare così le relative foto quelle che noi stiamo vedendo in questo momento siamo orgogliosi riferisce giuseppe il titolare del ristorante di aver ospitato un grande uomo del calcio italiano che ci ha regalato tante emozioni durante la sua lunga carriera calcistica noi l'abbiamo visto sereno e felice con la sua famiglia e amici nel gustarsi una piacevole serata tra tante eccellenze gastronomiche subito dopo la cena però tacconi è rientrato nella sostanza dell'ospedale di padre pio per proseguire il suo percorso riabilitativo ma anche noi siamo felici di rivederlo e soprattutto sereno e felice accanto alla sua famiglia